molte clienti mi chiedono quando iniziare a pensare al servizio di acconciatura sposa io ritengo che un anno prima basti bisogna fare ovviamente prenotare fare una consulenza farsi vedere cercare di capire un po quello che si va a fare e sicuramente programmare il tutto per quanto mi riguarda un'altra cosa mi fanno quante volte bisogna vedersi non c'è una tempistica io tantissimi miei clienti che ho pettinato li ho viste una volta come c'è alcuni clienti li ho visti due tre volte non è un problema l'importante che la cliente si senta sicura sia soddisfatta della prova che noi abbiamo fatto su di lei il resto non c'è una tempistica ben precisa e stabilita ma per quanto mi riguarda è importante dalla foto dell'abito capisco anche le scelte fatte dalla dalla nostra cliente e soprattutto che tipologia di acconciatura andare a fare quel giorno o in prova o in fase di prova perciò ritengo sia molto importante che vedere la foto dell'abito cosa fondamentale ritengo prima di fare una consulenza è veramente fare la fase di ascolto bisogna ascoltare tantissimo la cliente perché ognuna ha le proprie esigenze ci sono clienti che non vogliono i capelli raccolti perché hanno paura di star male però lì secondo me una fase di ascolto è fondamentale ancor prima che da professionista a proporre la concedura migliore la concedura più adatta secondo ovviamente le esigenze a 360 gradi importantissimo per prenotare il servizio sposa e rivolgersi al nostro numero fisso 090 444 433